Distruggere Sinistra Ecologia e Libertà sarebbe veramente uno sperpero, uno spreco, un luogo di buona politica è questa nostra comunità. C'è questo pericolo? Non permetterò che questa comunità venga archiviata e chiedo a tutti coloro che l'hanno costruita in questo momento di lavorare per un rilancio. C'è il pericolo che il partito si estingua? No, c'è il pericolo che qualche parlamentare vada via, ma un conto è una separazione di un pezzo di ceto politico, un conto è la vita di una comunità che è fatta di migliaia di uomini e di donne. Andare nel PD oggi io penso che sarebbe solo una resa.